UN'ANIMA Stanotte... ucciderà un uomo. Un'anima stava per essere vendicata. Quanti anni aveva la ragazzina che non si è riuscita a salvare? Avrebbe 16 anni ora. La bambina dove si trova? Perciò adesso che succede? Sto cercando una persona. È mio figlio. Non è solo per le persone che lasci qui. È per quelle che non hai ancora incontrato. Così il Cantastorie si crea un mondo tutto suo. È il re del castello con la sua principessa. Anche se la sua vita era assolutamente perfetta, sentiva che doveva essere altrove, con qualcun altro. Se credi intensamente in qualcosa, chi può dire se è reale o no? Gli ultimi tasselli del puzzle stavano andando al loro posto. La bambina che avrei dovuto salvare mi restava poco tempo. Quando sei perduto, sei pronto a credere a tutto. Aspetterò e osserverò. Scritto. Sì. Così. 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 Così.